Ieri MIBAC e CAI hanno firmato un protocollo per un turismo montano sostenibile e responsabile presso il Salone del Ministro al Collegio Romano. In linea con gli obiettivi strategici dell'intesa c'è il lavoro che l'amministrazione comunale di Sanza sta portando avanti proprio per la valorizzazione dell'escursionismo in montagna d'estate e d'inverno. Il Comune aderisce quindi al protocollo firmato ieri a Roma, che rinnova l'accordo del 30 ottobre 2015, centrato sul potenziamento della rete sentieristica e dei rifugi montani, prevede una serie di azioni condivise tra il MIBAC e il CAI per la promozione in ambito nazionale e internazionale dell'offerta turistica, nello specifico di quella montana, attraverso la valorizzazione dei percorsi escursionistici con speciale riferimento al Sentiero Italia-CAI. Un'estate particolare, quella appena trascorsa, spiegano dal Comune di Sanza, nonostante tutto grazie alla bellezza della montagna, abbiamo registrato numeri importanti. Ora ci prepariamo all'arrivo della neve che, da fine dicembre fino ad aprile, potrà garantire un flusso costante di escursionisti amanti della montagna. Aderiamo al nuovo protocollo per il turismo montano sostenibile e responsabile perché crediamo che sia questa la strada giusta per rilanciare il nostro territorio.